ciao a tutti come vedete sono sopravvissuta all'imbiancare casa non abbiamo ancora finito però insomma manca poco diciamo che il grosso è fatto non sono riuscita a lavorare moltissimo con le perline durante questo periodo però quel progettino della spirale rainbow l'ho portato avanti e l'ho modificato ulteriormente quindi volevo farvi vedere che cosa ho combinato questo è il campione di cui vi parlavo è esattamente la stessa lavorazione che vi ho fatto vedere nel video precedente l'unica cosa che sono andata a modificare è la dimensione delle perline che ho utilizzato è una spirale diciamo che ha una base di 6 come vedete 6 perline abbiamo 2 argentate 2 rosa e 2 perline diciamo un colore bianco perlato qualcosa del genere le perline argentate hanno dimensione 15 0 le perline rosa hanno dimensione 11 0 mentre queste perline bianche diciamo hanno dimensione 8 0 poi abbiamo queste perline blu si chiama azzurro blu insomma un colore un po parti con color jeans sembra più che altro che sono quelle perline decorative che vengono aggiunte nella lavorazione per dargli questo effetto e sono anche loro misura 15 0 quindi se voi prendete il mini tutorial della volta precedente e utilizzate perline di questa dimensione in questa sequenza ecco che ottenete questo risultato la lavorazione si arriccia su se stessa secondo me è molto carina vi consiglio di non tirare molto il lavoro perché se tirate il lavoro l'effetto che ottenete qui di queste perline color jeans che tendono in certi punti ad arricciarsi ma veramente basta rimanere morbide con il filo che poi alla fine la spirale si avvolge su se stessa fondamentalmente forse riesco a farvi vedere anche i codici dei colori queste sono le perline color jeans diciamo mi yuki 20 30 per le argentate credo siano le 181 ormai che queste provette sono talmente vecchie che anche la l'etichetta che avevo fatto si è andata cancellando invece queste rosa il codice è il 539 e poi purtroppo di queste qui bianche perlate non ho non ho il codice devo averle prese veramente talmente tanto tempo fa che era ancora l'epoca in cui non registravo i codici dei colori sui miei contenitori va bene tutto qui io spero che possa esservi di ispirazione perché secondo me questo genere di lavorazione veramente può essere versaldile per fare moltissime cose anche come vedete abbastanza flessibile quindi potete anche pensare di chiuderla magari facendola un po più lunga e come vedete viene una sorta di orecchino un po come quegli orecchini in oro che forse gli anni 90 andavano molto io almeno me li ricordo erano dei cerchi fatti come un torchon chiuso su se stesso e questo è un effetto molto simile secondo me bene quindi spero che la lavorazione possa esservi di stirazione io spero di rimettermi al lavoro con le perline quanto prima ci sentiamo presto vi auguro una buona giornata ma anche una buona estate a presto ciao ciao